Senti un po' romanticone, perché adesso non ti vai a fare una bella toccia così mamma ti trova tutto bello, pulito e sistemato? Così magari tutta la toccia ti distrae pure dalle tue pene d'amore, eh? Va bene. Dai, su, vai. Pronto? Il signor Renda? Sì, sono io, mi dica. C'è una telefonata per Edo al carcere circondariale di Napoli. L'accetta? Sì, certo. La mia? Oh, è tu? Sei tu? Come stai? Che è successo? Sentimi bene, ti devo dire una cosa importante. Dimmi, sto qua. Ho preso una decisione. Che decisione? Oggi ho parlato, mia. Voglio collaborare con la giustizia. Ho preso una decisione. Ho preso una decisione. Ho preso una decisione. Ho preso una decisione. Ho preso una decisione.